Ciao a tutti ragazzi sono Epitriaper e bentornati in questo nuovo video su Minecraft. Quest'oggi ragazzi volevo presentarvi all'interno del mio server il nuovo update uscito quest'oggi, martedì 30 maggio 2017, che è il title update 53. È un aggiornamento molto atteso da praticamente tutte le persone che giocano alle versioni console di Minecraft, in quanto introduce 64 nuovi blocchi per costruzione, le shulker box che sono uno dei blocchi più utili all'interno del gioco, e anche la seconda mano, anche se a dire vero è ancora un pochino limitata come opzione. Prima però ragazzi di mostrarvi tutte le cose che vanno appunto a implementare nuovi blocchi all'interno del gioco, volevo un attimino presentarvi alcune cose che vanno a modificare il modo in cui il gioco viene appunto giocato dai vari player. Allora innanzitutto qua nella sezione impostazioni hanno cambiato i comandi, infatti adesso ragazzi sarete in grado anche di scegliere i vostri tasti personalizzati, in maniera tale che se un comando vi dà fastidio su un determinato tasto, voi sarete in grado di cambiarlo, in maniera tale che abbiate quell'opzione lì sul tasto a voi più comodo. Tra l'altro hanno aggiunto l'opzione scegli blocco per la versione creativa, che vi permetterà di scegliere il blocco sopra il quale state guardando. È un'opzione molto comoda, soprattutto per tutti coloro che giocano e che sono builder nei server come me, e adesso per esempio ho impostato il tasto scegli blocco sopra la freccina direzionale in alto, quindi nel momento in cui io guardo per esempio un blocco di legna e premo il tasto su, come potete vedere otterrò il blocco di legna. Stessa roba con magari il log di legno o a dire il vero anche la cobblestone e quindi tutti i blocchi, ed è una cosa molto comoda appunto soprattutto per i builder. Per quanto riguarda invece altre feature fuori dal gioco, se così si può dire, anche se sono comunque all'interno del gioco ma non all'interno di un mondo, se così si può dire, hanno aggiunto una nuova mappa gratuita per tutti i giocatori del nuovo minigame Glide, che è una mappa chiamata Tempio, tra l'altro potete scaricarla gratuitamente dal negozio di Minecraft, che è una sezione che troverete nel menu principale, e hanno aggiunto nuovi skin pack, tra i quali quello di Adventure Time e un altro che si chiama La Donanza. In inglese ha un nome molto più figo, adesso non me lo ricordo, ma comunque oltre allo skin pack di Adventure Time c'è anche il mashup, quindi in caso voi vogliate un mondo a tema Adventure Time potete anche comprare il mashup per fare in modo che le skin di Adventure Time siano comprese nel mashup e abbiate oltre alle skin appunto anche un mondo a tema mashup. Purtroppo, a contrario della mappa per il minigame Glide, questo mashup e questi pacchetti skin non sono altrettanto gratuite, quindi purtroppo per ottenerli bisognerà sborsare qualche soldino. Per quanto riguarda invece ragazzi la cosa più interessante, ovvero le meccaniche che sono state aggiunte all'interno del gioco, hanno aggiunto i blocchi di calcestruzzo che sono questi qua in fondo, poi i blocchi di polvere di calcestruzzo, che come potrete immaginare serviranno per fare il calcestruzzo, poi ci sono i blocchi di terracotta smaltata che sono questi qua sopra che sono i più decorativi a mio parere, però non saranno molto utilizzati e poi hanno un attimino ricolorato tutti i blocchi di terracotta qua sopra in maniera tale che siano un pochino più saturi rispetto a quelli che erano prima e hanno anche leggermente modificato i banner e i blocchi di lana. Infatti qua come potete vedere i colori sono un pochino più accesi e rispettano molto di più i colori che dovrebbero essere. Infatti la lana gialla è molto più gialla rispetto a prima e anche la lana turchese, che prima erano più che altro di colori non molto simili a quelli che dovevano essere. Hanno tra l'altro anche aggiunto ragazzi appunto le shulker box dei vari colori, oltre ad esserci quella viola che è la shulker box base, anche di tutti i colori che abbiamo visto in precedenza, che sono praticamente tutte le variazioni dei colori della terracotta e dell'argilla. Se vi state chiedendo come poter ottenere l'argilla smaltata, in quanto è uno dei blocchi più interessanti da poter ottenere, soprattutto nella versione survival, vi basterà mettere praticamente un blocco di terracotta all'interno della fornace e cuocerlo, in quanto comunque c'è l'opzione di ottenere questi blocchi tramite appunto la cottura dei blocchi di argilla. Non vi voglio dire tutto ragazzi, in quanto purtroppo se vi dicessi tutto vi rovinerei l'esperienza dei giochi, quindi vi inviterò a lasciare un attimino scoprire alcune cose da soli. Comunque voglio dirvi che nel momento in cui andate a posizionare molti di questi blocchi vicini l'uno all'altro, si andano a formare dei pattern molto carini che potrete utilizzare come decorazione per le mura. Tra l'altro ragazzi hanno anche aggiunto le iron nugget, che si possono ottenere da armature di ferro e oro, anche le armature di ferro produrranno le nugget di ferro e quelle d'oro, ovviamente le nugget d'oro, e saranno ottenibili praticamente sciogliendo e distruggendo quindi le armature in una fornace, o meglio così ho capito. Per quanto riguarda invece ragazzi le shulker box, le shulker box come la maggior parte di voi saprà sono praticamente gli zaini di Minecraft. Infatti questi blocchi potranno essere portati in giro dai giocatori con un certo numero di oggetti al loro interno, adesso vi faccio anche vedere. Comunque ragazzi come funzionano queste shulker box? Praticamente hanno un comportamento molto simile a quello delle ender chest, infatti saremo in grado di depositare degli oggetti al loro interno, e dopodiché per esempio potremmo riprenderci un attimino la shulker box portandoci dietro tutti gli oggetti. A contrario delle ender chest innanzitutto, queste shulker box non si distruggeranno in pezzi di ossidiana quando le distruggeremo, in quanto le ender chest per fare in modo che le riottineate dopo averle distrutte serve un piccone con silk touch, mentre le shulker box no, e tra l'altro qua all'interno ci potremo vedere un attimino cosa conteniamo. Infatti ragazzi le shulker box sono pensate appunto per essere come degli zaini, e non come delle ender chest che sono praticamente delle chest che sono accessibili da qualsiasi punto del mondo, in cui voi possedete appunto una chest. Quindi diciamo che le shulker box sono molto molto più utili delle ender chest, a mio parere, sono allo stesso tempo anche molto diverse perché non si possono depositare gli stessi oggetti che ci sono qui, gli stessi oggetti che ci sono qua, infatti come potete vedere contengono oggetti differenti, ma comunque sono un blocco molto comodo soprattutto per tutti i giocatori che tendono a portare molti oggetti, come me, dietro di con sé in una grande esplorazione. Quindi ragazzi nel caso in cui vi serva a portare dietro molti oggetti, vi consiglio di portarvi dietro una shulker box che si può costruire tranquillamente, tra l'altro con il guscio di shulker che è un nuovo blocco che è stato aggiunto, un nuovo blocco droppabile però perché non è un blocco effettivo. E ragazzi ecco una delle più grandi modifiche all'interno di questo nuovo aggiornamento, ovvero la seconda mano. Infatti ragazzi hanno finalmente introdotto la seconda mano con il nuovo update. Purtroppo non è ancora una seconda mano completa, in quanto non saremmo in grado comunque di equipaggiarci spade o cose di questo tipo, potete vederlo anche voi, ma è comunque una buona cosa in quanto ci permetterà di poter posizionare mappe e frecce in quello slot, in maniera tale che ognuno di noi sia in grado di innanzitutto poter vedere una mappa in maniera migliore, in quanto le mappe di solito occupano un grandissimo spazio sulla propria mano, oppure semplicemente di scegliere quale freccia scoccare nel nostro inventario. Infatti nel momento in cui avremo una freccia nello slot della seconda mano, scoccheremo quella freccia invece che quella che abbiamo nell'inventario. Nel momento in cui infatti andrò a sostituire la freccia normale con quella di fuoco, mettendola nello slot della seconda mano, vedrete che io scoccherò una freccia normale invece che di quella infuocata che ho sparato prima. Quindi diciamo che è una cosa ancora da completare, la seconda mano, ma comunque è un buon inizio e potete vedere come si svilupperà poi con il passare del tempo. Quindi diciamo che comunque è una buona modifica. Non pensavo che l'avrebbero aggiunta in quanto è molto difficile da implementare come feature all'interno del gioco, ma comunque vedo che ci sono riusciti perfettamente e sono molto molto contento perché può essere veramente comoda. Però ragazzi, altra modifica che hanno implementato è la possibilità di utilizzare i razzi per volare con l'elytra, che è una cosa molto comoda, soprattutto perché molti degli elitra launcher che erano disponibili su PS4 sono stati patchati con l'ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda invece ragazzi appunto il volo con l'elytra, vi basterà essere ad un determinato livello d'altezza per poter attivare l'elytra normalmente e dopodiché utilizzare il tasto usa dei razzi, ok ho preso un pochino di danno, utilizzare appunto il tasto utilizza o usa dei razzi per fare in modo che essi si attivino e ci permetteranno di avere un piccolo boost che poi sarà utile per volare. Occio però ragazzi perché i razzi fanno un po' di danno e potrebbero poi portarvi alla morte dopo un tot di tempo. Tra l'altro come potete vedere sono all'interno del server per mostrarvi il nuovo aggiornamento e diciamo che è un aggiornamento abbastanza carino. Non potevano implementare di più ma a mio parere è molto buono soprattutto per via dei blocchi di costruzione che essendo un builder mi sono molto molto comodi. Poi ragazzi hanno aggiunto nuovi suoni quali quelli per esempio del calderone, quelli della fornace e hanno modificato alcuni suoni esistenti già in precedenza su Minecraft. Hanno anche modificato e aggiunto dei nuovi suoni per quanto riguarda il note block ma devono ancora aggiungere alcune altre feature che sono già presenti su PC quali magari le mention e cose di questo tipo che devono ancora essere implementate ma che hanno già detto che aggiungeranno con il passare del tempo. Infatti questo qua è un'introduzione per un aggiornamento più grande che arriverà a breve. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo aggiornamento lasciandomi un bel commento. Detto questo ragazzi spero vivamente che questo video appunto anche se semplice vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi fatemi sapere con un bel mi piace se questo tipo vi può piacere in quanto oltre a supportare me la serie supporta anche il canale. A questo punto ragazzi dovrò anche iniziare la nuova serie in quanto avevo detto che con l'arrivo del nuovo aggiornamento avrei anche iniziato la nuova serie. Vi augurare come sempre una buona giornata o una buona serata e a questo punto ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Divertitevi nel nuovo aggiornamento e appunto come detto prima fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti ragazzi alla prossima!